bravi 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 allora juventus 2 como 0 minuto 87 posso dire che la juventus stasera mi ha convinto ho visto una bella juve una juve intensa una juve anche abbastanza scorrevole che poi si andiamo a vedere le statistiche sembra una juventus che ha dominato il comune il possesso palla io non sono uno che vede le statistiche per chi mi conosce sa che faccio poca fede alle statistiche di partita però comunque sembra una juve che ha dominato totalmente il comune possesso ma alla fine c'è un 56 44 quello che vedo quindi anche una partita sotto sotto non dico equilibrata perché una juventus superiore è una juventus che non può ancora dire se è una squadra da vittoria dello scudetto è una squadra da secondo posto a terzo posto la juventus deve fare una cosa quest'anno deve lottare per lo scudetto e l'obiettivo deve essere vincere lo scudetto per se tu l'anno scorso arrivi terzo quest'anno prendi di aromotta spendi i soldi sul mercato perché comunque li stai spendendo con groupminers sono altri 60 zucchine altri 60 zucchine ragazzi sei lì sei lì e ci devi puntare lo scudetto c'è la juve la juve c'è poco da fare c'è poco a nascondersi la juventus deve puntare lo scudetto e deve puntare a vincerlo e poi la juventus ha tante altre competizioni però lo scudetto deve puntare a vincerlo oggi non puoi dire se ti sei misurato con chissà chi ragazzi il comodo ci fa zero di rimporta dobbiamo sempre vedere tutto con le giuste prospettive però però penso si possa dire che è una juventus che comunque i giovani li ha messi dentro che comunque il suo l'ha fatto è una juventus che alla fine oggi ha fatto vedere qualcosa di diverso con bangula anche con calciatori giovani con dei berros una juve che comunque ha avuto più soluzioni una juve io ho visto anche un buon blauvi ci voglio essere voglio essere onesto perché tante volte lo critichiamo il ragazzo tante volte lo critichiamo anche giustamente però comunque quando c'è da essere onesti comunque c'è da dirlo oggi il suolo fa fa un bel gol che poi viene annullato ragazzi oggi blauvi ci ha fatto il suo io penso che blauvi ci oggi al di là di tutto qualora ecco la partita dovesse finire così io credo che comunque debba essere contento debba essere contento di quel che ha fatto perché comunque ha fatto il suo ha fatto l'assist per cui ha ha fatto comunque era una bella girata di testa c'è blauvi ci sta secondo me pian piano crescendo forse sicuramente ti amo molta saprà come valorizzarlo al meglio saprà come farlo rendere al meglio quindi oggi la juventus deve essere contenta deve sapere che è un giusto inizio che tante big non hanno avuto perché comunque non l'ha avuto l'inter non l'ha avuto il milan non l'ha avuto per niente il napoli non l'ha avuto per niente la roma l'atalanta l'ha avuto l'atalanta l'ha avuto che non mi aspettavo però è comunque un buon inizio sono i tre punti adesso c'è tanto da fare c'è tanto da lavorare attenzione arriva il terzo gol arriva il terzo gol della juventus sto firma andrea cambiaso un gol bellissimo cambiaso è 3 a 0 juventus bel gol bel col sono contento per il ragazzo ragazzo umile ragazzo che si impegna sempre ragazzo che ha dato sempre il meglio in ogni stagione bravo cambiaso bravo 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 sono sono contento per lui italiano bravo bravo rivediamolo è bella botta di sinistro bella botta bella bella botta di sinistro ragazzi è una juventus che deve completare il mercato perché sapete che in questi primi video di post partita al post partita lo faccio sì però poi ci sarà più in line altre partite da analizzare molto di più oggi si c'è da analizzare però c'è anche da far riferimento a quello che è un calcio mercato ancora aperto a quello che è un calcio mercato che va poi concluso perché comunque purtroppo ragazzi la serie a inizia calcio mercato in pieno perché tante squadre sappiamo che tendono a fare le operazioni verso la fine è una juventus che deve ancora chiudere del tutto l'affare group miners anche se alla fine io credo che comunque si farà e comunque per una cifra bella alta c'è da capire che il difensore comunque arriverà cioè comunque c'è un difensore che deve arrivare c'è group miners che deve arrivare c'è la situazione esterno attacco che deve essere conclusa tutto questo comunque si può dire che una juventus secondo me un po in ritardo sul mercato perché comunque giuntoli qualcosa sbagliato secondo me sul mercato credo si possa dire che non sia intoccabile perché comunque giuntoli ha fatto delle buone cose come secondo me l'affare Douglas Lewis l'affare Duram sono delle grandi pensate di cristiano giuntoli delle grandi giocate di cristiano giuntoli direi giocate da direttore sportivo e poi però ci sono dei punti dove si è un po intrecciato cristiano perché comunque la situazione sulle la situazione chiesa che potrebbe essere gestita sicuramente molto meglio ma per chi mi segue sa ho già espresso mio parere su quello che è la situazione anche totipo cioè comunque sono difensori che sono sfumati c'è una juventus che poteva fare qualcosa in più sul mercato sotto il punto di vista delle tempistiche e dei modi di gestire le situazioni quindi cristiano giuntoli qualcosa sbagliato sicuramente però qualcosa l'hai sbagliato ma devi sapere che il calciomercato non è finito che sei in tempo per completare la squadra come lo è la juve lo è il napoli lo è la roma tutte le squadre possono completare la rosa a disposizione del proprio allenatore quindi è una juve che secondo me deve stare sereno tiago motta che deve stare sereno e per adesso lavorare con quelli che ha ma lo sta facendo tiago è un allenatore comunque che che lavora è un allenatore un buon allenatore io poi adesso non so come andrà la sua esperienza alla juve non ha nessuno alla sfera ragazzi nessuno alla palla di cristallo non sappiamo tiago motta se veramente farà bene alla juve o no però è un buon punto di partenza è un buon punto di partenza a tiago motta sono stati comprati i giocatori tiago motta sa che la pressione la juve è diversa tiago motta sa che la juve ci si gioca per lo scudetto perché la juve quest'anno gioca per lo scudetto quest'anno a lottare per lo scudetto ragazzi che devono come obiettivo puntare allo scudetto c'è la juventus di tiago motta c'è l'inter che deve riconfermarsi c'è la juventus che comunque ha fatto un terzo posto l'anno scorso queste state come nomi alla fine comunque gli compreranno di tutto perché comunque c'entrambisti sono variati con minor si arriverà all'esterno e tutto i giocatori la squadra c'è io vedere puntare lo scudetto non è che devi puntare a quarta e poi c'è il milan e che l'anno scorso arriva secondo e quando tu arrivi secondo l'anno dopo dici vogliamo sempre migliorare quello prima punti al primo posto e quindi grazie c'è il milan c'è la juve e c'è l'inter per lo scudetto per puntare allo scudetto poi le altre le altre devono puntare ad arrivare in champions league certo la davanti a potrebbe puntare allo scudetto non so per me ancora non è del tutto da scudetto napoli roma e lazio devono puntare alla champions league perché non c'è nessuna delle tre in champions league devono puntare ad arrivare in champions quindi tre squadre devono puntare ad arrivare in champions e tre così oggi mi sono un po' dilungato su questo aspetto perché comunque forse non è passato tanto questo concetto e quindi spero voglia passa spero sia passato del tutto ecco comunque calcio d'angolo per la juventus un como che parte male ragazzi adesso andiamo a rivedere un po' quella che è la formazione del como che tanto ce l'abbiamo qui grazie alla grafica di da zone moreno col danica barba sala strefezza brauno der baselli de cugna cudrone pelotti questa ragazzi non è un non è un gran como cioè dobbiamo essere onesti poi col tempo anche il como saprà adattarsi a quelli che sono i nuovi arrivi a un baranno infortunato a tanti calciatori che anche oggi sono subentrati e che poi col tempo si inseriranno meglio un como che dovrà adattarsi ecco e dovrà pian piano crescere per oggi non possiamo parlare di un bel como un como che non impensirisce mai la juventus e una juventus che praticamente non dico si fa una partita d'allenamento però è una juventus nettamente superiore mentre invece già ieri il la roma l'ha messa un po più in difficoltà come occasioni una roma un po più scoperta è una juve che non l'ho vista molto in difficoltà oggi col como però questa non è una questione di demeriti per per screditare quello che ha fatto la juve stasera la juve comunque stasera fa fa un'ottima partita e deve ripartire da questo qua comunque 3 a 0 al como un risultato alla fine abbastanza netto o netto del tutto schiacciante e quindi vedremo quella che sarà la juve quest'anno ragazzi sta terminandola già la prima giornata di serie a attenzione perché pare non essere terminata del tutto perché blauvic 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 non ho capito sarà fuori gioco la partita è terminata secondo me era fuori gioco quello di blauvic ma è finita sta partita secondo me era fuori gioco quello di blauvic ma non hanno non si sa se ha fischiato la fine si è finita ragazzi juventus 3,0 primi tre punti per la juventus in descrizione tik tok instagram e twitter like al video iscrizione al canale e campanellina perché ne escono dei contenuti calma calma